...e c'è di tutto la mangiare e poi dopo fanno una carta rossa e chiude la serata. Ok? Allora, il coro del Cagli ha un po' di silenzio, grazie. Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutti. Grazie. Il coro Terra Maiura vi presenterà stasera alcuni brani del proprio repertorio che spazia dal canto popolare di montagne e al vino fino a quello tradizionale, la tradizione canora locale del Cagliamaggio. I canti saranno intervallati con alcune poresie ideale tali recitate da Graziana Dionei e Sergio Caducci. Intanto salutiamo e vi prego di fare un grande applauso alla nostra diretrice, la professoressa Lucia Romanto. Grazie. 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 dell'amore nella vita, nonostante le difficoltà e i sacrifici. Grazie a tutti e a tutti e a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti. Grazie 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 a tutti.